Ciao Maurizio, questa è la mia domanda per te e secondo me potrebbe interessare a diverse persone. Sei una persona del tuo passato, con la quale diciamo non è che ti sei salutato troppo bene. Continua a rompere i col***i tramite svariati modi, tra cui banalmente il parlare male di te a terze parti, sui social. E vorresti dirgli basta, stai zitto, ma con le buone maniere non capisce. Tu che cosa faresti? Cara anonima, le buone o le cattive maniere non dipende da me, ma dalla moneta. Ma sai la differenza tra un chiodo e uno s*****o? Il chiodo ti buca una ruota, lo s*****o te le buca tutte e quattro. Fai la s*****a. Bucali tutte e quattro le ruote, c'è il motorino due e poi c*****li sullo zerbino e spalmagli la n*****a sulla porta. Poi lavati le mani.